Importante per me è sapere accettare le sfide. Per me è stata importante la determinazione nel raggiungere l'obiettivo. Per me è stato importante il senso dell'umorismo perché ridendo sono riuscita fare le cose serie che mi interessava fare. Io penso di essere stata aiutata molto anche dalla voglia di cambiare che mi ha fatto affrontare con più leggerezza l'aumentare delle responsabilità. A me ha aiutato molto la voglia di sperimentare, di provare nuove strade, nuove soluzioni. Ho sempre avuto grande passione per questo lavoro. La mia fortuna è la curiosità che mi ha aiutato ad andare avanti in questo lavoro meraviglioso anche nei momenti più difficili. Il mio lavoro ha sempre messo tantissima passione che per me è la cosa fondamentale. Credo di avere sempre avuto una grande capacità come tunnel scout cioè nel riuscire a capire e valorizzare le potenzialità delle persone. Mi è stata molto utile la gentilezza perché la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia vita è stata costruire la mia autorevolezza con persone molto più esperte di me. Grazie a tutti.